Non può essere il carcere una forma risarcitoria per le donne vittime di violenza. Anche l'Italia, sebbene con ritardo, si muove verso una presa in carico del maltrattante, come sta facendo la regione siciliana, che all'interno del piano regionale antiviolenza ha attivato un percorso innovativo sperimentale per i soggetti maltrattanti. La regione, insieme a una serie di soggetti, il mondo della sanità, il mondo della giustizia, il mondo della sociologia, gli psicologi, il Formez, che è un ente dello Stato che ci sta supportando in questo, e anche l'attenzione alla scolarità ha messo in essere una serie di azioni perché si abbia un piano complessivo intanto di crescita culturale e morale rispetto a questo problema. Si sta pensando in larga parte d'Italia, anche in Sicilia, a dei protocolli che prevedano proprio delle misure specifiche per lavorare sul maltrattante, cercando così come per la violenza di genere in particolare di affrontare la tematica del maltrattamento, dal punto di vista del maltrattante, in un'ottica che non sia soltanto di tipo repressivo ma anche di tipo preventivo. Lavorare sulla parità di genere prima di arrivare ad un maltrattante adulto nella nostra legislazione ci sono ancora criticità che favoriscono la pena e non un percorso che impedisca al maltrattante di essere un recidivo nei comportamenti, cosa che secondo le statistiche avviene in otto casi su dieci. Quello che mi prema e ribadire è che, secondo me, in questo momento la tematica e l'aspetto del maltrattante merita un approfondimento che ancora non ha avuto. Occorre potenziare la formazione degli operatori di pulizia, soprattutto dei magistrati che valutano le richieste di misure cautelari. Assistiamo spesso, infatti, a trattamenti molto diversi tra loro con magistrati che assegnano misure esageratamente afflittive o archiviazioni. Quello che è fondamentale, a mio parere, è soprattutto la prevenzione, ma è una prevenzione che si muove lungo un percorso che deve necessariamente avvalersi di un sapere peculiare e quindi del sapere di psicologi, psichiatri, psicoterapeuti. Uno strumento da potenziare è anche l'ammonimento che avviene per opera del questore. È uno strumento importante perché consente all'autorità di pulizia di attivarsi, anche se la parte offesa non ha dato nessun segnale, non ha attivato nessuna misura, non solo per diffidare il soggetto dall'interrompere i comportamenti maltrattanti, ma perché dà la possibilità all'autorità di pulizia di togliere al soggetto maltrattante o sospettato di essere maltrattante la disponibilità di armi. L'idea di fondo è quella di prevenire la violenza, ma nei casi in cui non è possibile offrire agli uomini maltrattanti percorsi di recupero alternativi all'isolamento. Ed è quello che fanno i CAM, il primo dei quali dal 2009 è attivo a Firenze. Se utilizziamo un linguaggio giusto, se facciamo sentire agli uomini il fatto che non sono mostri, non sono bruti, non sono colti da raptus quando agiscono violenza, ma possono scegliere di cambiare. Se cominciamo a sensibilizzare le persone comuni sul fatto che la violenza è un problema culturale, che appartiene a una società che è strutturalmente violenta, è la punta dell'iceberg, la violenza degli uomini contro le donne, è un problema molto globale. Allora gli uomini più o meno spontaneamente, più o meno volontariamente, magari anche semplicemente per dire mi hanno denunciato ma non è il mio problema, però vengono in questi centri. In Italia manca un'anagrafe dei servizi che operano con i soggetti maltrattanti, i dati però fanno ben sperare. Centri, spazi e servizi sono in crescita, 18 nel 2012, 29 nel 2014, 44 nel 2016. Ritengo che il problema sia strutturale, sia sempre esistito nella nostra realtà e abbia assunto una maggior visibilità soltanto perché sono diminuiti il numero complessivo degli omicidi e quindi quelli nei confronti delle donne agiti in quanto tali acquista evidentemente una maggior proporzione e una maggior visibilità. C'è una maggiore consapevolezza dei servizi sociali, delle forze dell'ordine, anche del sistema giudiziario, di quanto sia importante dare delle risposte che normativamente sono risposte punitive a queste condotte, ma che all'interno di questa pena vi sia la caratterizzazione di un intervento qualitativo che si concentri sul trattamento di coloro che hanno agito delle interventi.